Intanto un ringraziamento alla segreteria nazionale, a Fulvia, alla segreteria generale Giuliano per avermi coinvolto in questo lavoro, perché lavorare per i lavoratori dell'appalto che sono oggettivamente i più deboli della nostra categoria significa lavorare nel solco della indicazione confederale e quindi di farsi carico di coloro i quali hanno la peggior condizione vigente. Devo ringraziare anche per il lavoro fatto Carla Spandonaro che è qui in sala perché buona parte di quello che vedremo è frutto del suo lavoro e anche Stefano Fornari che questa mattina ha avuto modo di darmi altre indicazioni e suggerimenti. Iniziamo con il presentare questo lavoro, la copertina vedete è formiche resistenti, io intanto da cicala credo sia stato un ottimo, un grande segno di unità quello di aver incluso le cicale nella lotta per le formiche a favore delle formiche resistenti, è già questo un segnale politico credo. Partiamo con il rompere il ghiaccio dal solito dato che ci diamo in questa occasione che è quello sulla crescita, quello sul PIL, tanto per contestualizzare dove ci troviamo quando parliamo anche di appalto assicurativo. L'Italia è un paese che non cresce, che cresce quando va bene meno degli altri principali paesi europei e anche in questi anni ultimi che hanno fatto segnare un'inversione di tendenza per paesi come la Spagna ad esempio, con i quali ci paragonavamo fino a qualche tempo fa, per noi è andata peggio. In questi anni di crisi o di crescita ridotta abbiamo assistito anche ad un altro fenomeno, in questo caso inverso, in questo caso c'è stata una crescita e anche consistente ed è quella dei contratti collettivi nazionali vigenti nel nostro paese. Io ricordo già dal forum di Serbia del 2012 che noi all'epoca dicevamo ci sono oltre 400 contratti collettivi nazionali in Italia, li dovremmo ridurre a un decimo, li dovremmo portare ad una quarantina in tutto, invece abbiamo assistito ad un fenomeno, a un trend esattamente opposto e cioè ad una crescita di CCNL, vediamo qui nell'esempio dal 2012 al 2018 sono passati da oltre 550 a quasi 900, come ricordava anche Fulvia nella sua introduzione questa mattina. Questo ha a che fare anche con quello che abbiamo visto prima evidentemente, cioè con un paese che è in crisi e che quindi determina anche una necessità di breve respiro da parte delle aziende di ridurre il costo del lavoro, facendo uso anche del dumping contrattuale per ridurne i costi, come è avvenuto e lo vedremo meglio nel dettaglio più avanti anche nel settore assicurativo, in particolare nell'appalto assicurativo. Questo ci fa pensare anche, questo dato sulla crescita dei contratti collettivi nazionali che ricorda arrivano a quasi 900 nel 2018 che la nostra proposta richiesta di una legge sulla rappresentanza che stamattina è stata anche dal punto di vista tecnico giuridico più volte richiamata, sia una richiesta necessaria anche per dare attuazione all'articolo 39 della nostra Costituzione. È avvenuta questa crescita dei contratti collettivi nazionali anche in un settore come quello assicurativo, lo possiamo vedere qui con il dato sulla redditività che oggettivamente è un settore che va bene, che genera utili e che in questi anni, anche negli anni della crisi del paese che abbiamo visto nella prima slide, ha redistribuito al capitale ricchezza con un andamento del ROE attorno al 10% in modo costante, quindi consistente e anche costante. Facciamo ora un dettaglio dei dipendenti del settore assicurativo, li vedremo prima per quanto riguarda quelli a cui viene applicato il contratto ANIA e poi per quanto riguarda coloro che hanno applicato il contratto dell'appalto. I dipendenti del settore assicurativo ANIA sono circa 45 mila, di cui circa 38 mila sono amministrativi, sono collocati dal punto di vista geografico quasi esclusivamente nell'area centro-nord, gli occupati nel sud delle isole fanno appena l'1%, in particolare nel nord, ma se prendiamo il centro-nord possiamo dire in via esclusiva ed hanno una dimensione di genere più o meno alla pari, sono più o meno il 50% gli uomini e il 50% le donne. Nell'appalto invece nei lavoratori e le lavoratrici che stanno sotto l'appalto assicurativo abbiamo una condizione diversa, intanto però ragioniamo sul quantificarne il numero e non è stata cosa facile, l'iniziativa di oggi è un ulteriore elemento di stimolo per approfondire e studiare un mondo che fin qui è stato poco conosciuto, siamo arrivati a stimare ce ne siano circa 50 mila, mettendo insieme i dati dell'Embas, che ringraziamo per la collaborazione, dell'Inps anche, quindi con le comunicazioni pubblicatorie, ma anche dell'Istat, perché i dati non sempre coincidevano, abbiamo noi fatto una stima, un'approssimazione che ci porta a dire che ci sono circa 50 mila persone che lavorano come dipendenti dell'appalto assicurativo. La condizione di genere, abbiamo visto prima che i dipendenti ANIA sono più o meno bilanciati tra uomini e donne, nell'appalto invece c'è una forte prevalenza di lavoratrici donne, circa l'85% contro il 48% di ANIA nell'appalto sono donne e hanno peraltro un'età media più bassa, quindi nell'appalto noi abbiamo persone con un'età media più bassa e sono prevalentemente donne, che sono dal punto di vista geografico anche in questo caso prevalentemente nel centro nord, riconducibili all'area geografica del centro nord, ma anche nel sud, a differenza di quanto avevamo visto nel caso di ANIA. Sud e isole dal punto di vista geografico faceva l'1% dei dipendenti complessivi ANIA, nell'appalto è circa il 13%, probabilmente perché la distribuzione low cost nel sud ha un appiglio maggiore che non al nord dove i salari mediamente sono più alti. Parlando di salari arriviamo a parlare e concludiamo poi su questo, del dumping contrattuale che insiste nel settore dell'appalto assicurativo, che è un dumping che ha due diversi aspetti da tenere in considerazione, uno normativo e l'altro salariale. Intanto dal punto di vista normativo come possiamo vedere nell'elenco e qui abbiamo riportato i principali punti, ce ne sarebbero anche altri. Il lavoro che è sempre di 37,5 ore a settimana, nel contratto ANAPA è su 5 giorni dal lunedì al venerdì, nel contratto SNAP è su 5-6 giorni che comprende anche il lavoro di sabato. Nel contratto ANAPA lo straordinario ha un tetto fissato a 90 ore, mentre nel contratto SNAP c'è un tetto fissato a 250 ore. Il premio di produttività nel contratto ANAPA ha un minimo di 160 Euro e arriva ad un massimo di 382,5, nel contratto SNAP il minimo è a 110 Euro e il massimo a 250 Euro. Le semi festività 5 giorni previsti dal contratto collettivo nazionale per il contratto ANAPA, mentre per il contratto SNAP c'è una discrezionalità da parte del datore di lavoro sempre per questi 5 giorni. Poi ancora c'è la previdenza complementare prevista nel contratto ANAPA fino a un 2% e non prevista dal contratto che abbiamo definito pirata firmato con lo SNAP da sindacati di Comodo. Per quanto riguarda ancora, facendo le differenze, richiamando il tema del dumping contrattuale, il contratto collettivo firmato con ANAPA prevede una retribuzione per gli apprendisti al 90% e cresce anno per anno, passando nel secondo anno al 93,5, nel terzo anno al 96,5, mentre per quanto riguarda il contratto sottoscritto con SNAP è fermo per i primi 18 mesi all'85% e per i successivi 18 al 90%, quindi il punto più alto della retribuzione degli apprendisti nel contratto sottoscritto con SNAP è il punto più basso del contratto sottoscritto con ANAPA. Veniamo all'ultima slide che riguarda ancora il tema del dumping, in questo caso del dumping salariale e qui abbiamo voluto mettere insieme, abbiamo messo a confronto il salario percepito prima della divisione dei due contratti, quindi nel 2011 quando c'era un unico contratto, con il salario percepito oggi nel 2018 da un lavoratore al quale viene applicato il contratto ANAPA e nel confronto con un lavoratore al quale viene applicato il contratto SNAPA. Se facciamo l'esempio del quinto livello, possiamo notare come il salario percepito dai lavoratori nel 2011, tutti, è più alto del salario che oggi percepisce un lavoratore, quindi a 7 anni di distanza, con il contratto SNAPA. In particolare facendo l'esempio del quinto livello, guadagna un 7% in meno un lavoratore al quale viene applicato questo contratto pirata, mentre invece i lavoratori ai quali viene riconosciuto il contratto ANAPA guadagnano un 7% in più rispetto al 2011, figlio evidentemente della contrattazione e delle dinamiche salariali, inflattive che in questi anni ci sono stati. Abbiamo qui in questo valore preso il dato del 2018 per renderlo omogeneo, per fare il confronto in modo omogeneo, vale la pena ricordare che il contratto ANAPA nel 2019 ha già previsto due aumenti, uno a gennaio e l'altro a giugno, quindi è ulteriormente cresciuto rispetto a quello che abbiamo indicato nella slide e nell'esempio, mentre il contratto SNAP prevede al 2023 gli stessi importi che vediamo qui e quindi non ci saranno e non ci prevedono ulteriori aumenti. Questo per concludere sul tema del dumping contrattuale e sulla qualità del contratto firmato con ANAPA rispetto al contratto pirata firmato dai sindacati di Comodo e dallo SNAP. Io concludo con il suggerimento che ho ricevuto, con queste belle immagini che ricordano la iniziativa fatta dalle organizzazioni sindacali, la manifestazione di Trento se non sbaglio e che insomma ricordano come la lotta per i lavoratori dell'appalto assicurativo e che sono come dicevo all'inizio i lavoratori più deboli della nostra categoria, sia una cosa che portiamo avanti da tempo in continuità, oggi è un pezzo di un lavoro che viene da lontano e che siamo sicuri avrà un futuro almeno per quanto ci riguarda. Grazie.